Grazie. Vedi, hai messo il ginocchio e vedi com'è fatto. Ricorda questa cosa. Hop, metti il ginocchio, il ginocchio e poi porti questo. Grazie. Center. Via via. Via via via. Via via via. Via via, via via. Via via, a copri con deser, copri con deser. Via, cambia. Da, ho. Si. Vai, capito? Oh si. E copri, potre in gentile. No no no, deve sapasar con deser ati. Via via via, di l'aria. Via via via, di la via. Via via. Via via, si. Via via. Voi solo drillo, dai? Vedi cosa succede? Facendo drillo Permettis piccolissimo Io devo fare con cose invece tu sempre starai E poi quando vai giro さい Voi esqueci Provepot Vedi? 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 se tu prendi i gambe gli diciamo io voglio passare io voglio passare qui cosa fai? guarda la gamba se passa a prendere la tua schiena come se mi fai? no 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 così da qui vai entro e sono qui solo tu ti difendi? guarda tu sei visante sopra va bene guarda sopra qua un ginocchio sopra uno a te e poi cambia poi vieni sinistra sotto a destra metti il secondo ginocchio stai con due ginocchio sotto ginocchio oh adesso metti com'i sta a destra? ginocchio e i mano destra vedi? 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 vecchiasc vedi? vedi? ... vedi? 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 Prendi, 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 oh, vedi, oh, super, vedi, e mi aganchi, vedi come mi stai stai tirando, morbido, morbido, non stai cosi duri, e tu stai cosi duri, io diciamo, no, 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 non colpiti, si, o, si, o, o, bravissimo, vedi, todes su stai come una mortadella andando, come così, si, si, vedi, hop, hop, sempre mi stai tirando, stai spingendo, vedi, oh, 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 controlami, controlami con brav, si, si, hop, 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 vedi, anche se lui cade, ui, si, si, tu stai qui, stai qui, vedi, adesso puoi fare lo stesso, vai di qua, con tutta corta, con due gambe, si, no, ne devi di con culo, no, si, lo stesso puoi coprire, no, no, con questa gamba, ok, hai capito cosa dico, no, no, come abbiamo fatto primo, ah, ok, com'è questo, si, oh, si, e, va in quattro No, 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 no Abbiamo fatto una pausa Grazie Grazie Non andrà, destai Lui di temi Andrà, vieni Andrà, vieni No, vieni No, vieni 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 E te Cosa hai fatto? Cosa hai scelto Pozzare Vieni 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 Ancora non lo so voi va indietro qua indietro qua schiena schiena sempre dritto qua e dai su gancho, gancho di grampo o, si qua e se non si non si non si opp subito con gancho va io testiro quando vedi che io vado indietro vai vedo che vai indietro vieni vieni qua vieni 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 vieni